Siamo dicendo, la prossima composizione è Passi, per trio di flauto saxofono contralto il pianoporte, il flautista è il maestro Francesco Di Pupo, a saxofono collega Antonello Giustino e al pianoporte sempre Serena Valduzzi. Se c'è qualche domanda da porre, qualche curiosità fatevele venire le curiosità, che oggi per la prima volta suppongo avete i riconoscitori a disposizione, quindi non abbiate timore, sono qui per rispondere, voglio rispondere a qualche vostra curiosità. Grazie. 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 Grazie.